Solarolo da vivere, io compro qui. È questo il nome dell'iniziativa che l'amministrazione comunale di Solarolo ha avviato a favore e in sostegno delle attività commerciali presenti in paese. Una vera e propria operazione di marketing che intende preservare, migliorare e valorizzare il centro commerciale naturale di Solarolo. Diciamo che l'idea di partenza è legata al programma elettorale con la quale ci siamo presentati come lista ai cittadini. La volontà è quella di cercare di valorizzare le cose importanti che la mia comunità ha, tra cui riteniamo ci siano anche la qualità, l'attenzione e la professionalità dei nostri esercizi commerciali. Chiaramente è un momento abbastanza complicato dal punto di vista delle opportunità che i commercianti di una piccola comunità come la mia hanno a disposizione, perché i centri commerciali sono sempre di più, ci sono nuove entrate, quindi è sempre più complicato. L'idea è appunto quella di dare la possibilità a questi professionisti di aggregarsi, di presentarsi in maniera uniforme e in maniera contestuale e presentare ovviamente anche Solarolo a chi è appena arrivato, a chi magari ci passa per lavoro e che magari non conosce le cose che ci sono, le opportunità e le qualità che ci sono. Lo scorso anno abbiamo presentato un progetto per la legge del giornale 41 che ci ha dato la possibilità di cominciare questo percorso, perché lo riteniamo un percorso che non si deve chiudere con qualche iniziativa sporadica, ma deve dare una prospettiva di lungo periodo. Abbiamo iniziato con l'inserire all'interno del giornale uno spazio gratuito a disposizione dei esercizi commerciali, abbiamo poi proceduto a progettare anche una serie di loghi, immagini coordinate, di oggettistica che in qualche modo serva a portare avanti questo discorso e quest'anno la nostra intenzione sarebbe appunto quella di procedere con una fidelizzazione dei clienti. Il fatto di aver fatto conoscere le opportunità adesso ci deve spingere a portare queste persone ad acquistare sulla Rolo. Stiamo ragionando su una scheda punti che consentirà di spingere gli acquisti presso questi esercizi e in qualche modo l'idea è poi di fare a fine di questa iniziativa una estrazione di premi che saranno comunque legati alla ecosostenibilità e quindi comunque dare continuamente dei messaggi di questo tipo. L'idea a noi piace per un aspetto che è quello appunto della promozione del nostro territorio, soprattutto perché parte anche dal basso, cioè non è stata una cosa pensata da noi ma l'idea è stata nostra, ma la progettazione e la realizzazione è stata condivisa con gli esercenti che in qualche modo hanno visto concretizzarsi non soltanto delle parole, degli annunci ma qualcosa di estremamente concreto. Abbiamo intenzione di stimolare anche un'aggregazione, non di obbligare ma di stimolare, perché credo che sia nella logica conseguenza delle cose e questi 45 esercizi non stanno lavorando insieme, spero nasca questa volontà di consolidare questa esperienza. Per arricchire il senso del progetto e per dare un'immagine unitaria coordinata a tutto il commercio nel paese è stato distribuito un kit gratuito a tutti gli operatori, in dettagli nell'intervista al consigliere comunale Giovanni Zoli. Stiamo distribuendo in questi giorni delle sportine, dei sacchetti, degli adesivi e delle etichette che rendano uniforme il messaggio di unità del commercio solarolese. Abbiamo fatto un mese e mezzo fa circa delle magliette che abbiamo distribuito a tutti i bambini delle scuole elementari e medie e anche questo per dare un senso di unione al paese, un senso di unità in un marchio che vuole essere in un paese felice da vivere e dove trovare le cose che servono. Ben 45 operatori, la quasi totalità del panorama commerciale solarolese, ha aderito con entusiasmo all'iniziativa comunale. L'iniziativa mi è sembrata carina anche perché tentiamo di incentivare il commercio a solarolo, comunque gli acquisti a solarolo cercano di agevolarci anche perché non è assolutamente un momento facile data l'apertura di tanti centri commerciali e la tendenza della gente a spostarsi dai piccoli centri quindi insomma mi sembra un tentativo di aiuto non piccolo. Questa iniziativa è stata accolta in maniera molto favorevole, abbiamo prestato molto lo sforzo della nostra amministrazione nel sostenerci in questo momento di crisi e soprattutto per noi piccoli commercianti che vediamo la concorrenza della grossa distribuzione e l'idea appunto di sostenere il nostro centro commerciale naturale con questa iniziativa solarolo da vivere, io compro qui, è un valido sforzo che penso porterà anche dei buoni frutti. Stanno facendo qualcosa per vedere anche di fermare un pochino la gente qui nel nostro paese perché incomincia e niente, è stata l'unica volta che ci hanno preso, ci danno una mano per tenersi tutti fermi e ci hanno preso anche in considerazione un po' i commercianti. Grazie.